Al giorno del giudizio si separa Buongiorno o buonasera a tutti e bentornati al podcast dell'Associazione Peranc Associazione Culturale Senza Fini di Lucro nata per la divulgazione di studi e insegnamenti delle più antiche tradizioni iniziatiche Oggi parleremo di scienza sacra e di felicità Ah, la felicità! Ognuno di noi, in un modo o in un altro, anela ad essere felice e ritiene che sia un suo diritto di nascita esserlo proprio come un principe ereditario sa che un giorno potrà appoggiare le sue regali natiche sul trono Abbiamo l'incrollabile certezza che sia soltanto il tempo oppure alcune condizioni esterne sfavorevoli a tenerci momentaneamente separati dalla felicità che ci spetta Sarà davvero così? Qualche dubbio ogni tanto sorge D'altronde chi di noi conosce personalmente un individuo davvero felice? La sta grande maggioranza della gente che incontriamo passa il tempo a lamentarsi delle sue disgrazie e della cattiveria del mondo La loro infelicità è colpa di un ingranaggio rotto del destino Ma poi ci sono anche quelli che trascorrono il loro preziosissimo tempo a caricare sui social centinaia di selfie che li ritraggono con sorrisi smaglianti e in situazioni invidiabili e il dubbio allora pervade l'animo di chi li guarda Ma sono solo io che non sono così felice Infatti, le recenti indagini sociologiche hanno rilevato che alcuni social network deprimono molti dei loro frequentatori proprio perché guardare le immagini e video di chi riempie le bacheche di momenti indimenticabili emozioni uniche, incontri straordinari e incontenibili attimi di passione fa sentire peggio Nessuno sembra chiedersi come mai tutto questo popolo dal volto sorridente non trovi niente di meglio da fare che condividere digitalmente così tanti momenti speciali invece di goderseli E già, sembrerebbe che spesso si abbia semplicemente voglia di salire sul nostro piccolo palcoscenico personale per gustarci qualche applauso spintaneo in modo che like e consensi possano convincerci che siano proprio questi sprazzi emotivamente fugaci ad essere veri e propri attimi di felicità E quando questa trappola è innescata inizia a pervaderci quel bisogno crescente di averne ancora e ancora, e sempre di più ed ecco che la felicità diventa una rincorsa verso la riprova sociale Poi ci sono quelli che hanno trovato un palcoscenico un po' più grande fatto di ricchezza o notorietà o entrambe le cose Andando per deduzione ricevendo ammirazione a profusione e non avendo nessuna preoccupazione economica dovrebbero avere qualche chance di felicità in più Eppure, quando non ci si ferma alle notizie da copertina scopriamo che anche loro si ritrovano a navigare nella vita con gli occhi sgranati per qualche antidepressivo di troppo sempre terrorizzati dall'idea di perdere consenso o pagare troppe tasse È evidente, ci sfugge qualcosa Ognuno ha la sua idea di felicità che bene o male potremmo a grandi linee riassumere all'interno di queste macro-categorie avere tanti bei soldini fare quello che ci piace essere ammirati essere invidiati stare bene in salute costruirsi una bella famigliola in stile mulino bianco Chissà però perché è difficile scorgere la felicità negli occhi e nella vita di coloro che, bene o male, hanno raggiunto questi traguardi e i fatti parlano chiaro ogni anno cresce il tasso di utilizzo di farmaci stimolanti il tasso di suicidi il consumo di droghe le estensioni dei reparti ospedalieri e vengono coniate sempre nuove forme di patologia Ma allora, se tutti questi massimi obiettivi propinati dalla nostra cultura di fatto non riescono a garantirci la certezza della felicità cosa può farlo? Un primo importante indizio lo possiamo trovare nel passato Nei tempi antichi, infatti il concetto di felicità aveva un significato molto diverso da quello attuale L'aggettivo felix era usato per indicare non quelli che ricevevano molto dalla vita ma chi era nelle condizioni di offrire molto agli altri ad esempio un albero prosperoso con i rami pieni di buoni frutti da mangiare era felix Era quindi ovvio che la strada per la felicità non era la lotta per ottenere più cose possibili dalla vita ma la ricerca di comprendere la propria reale natura ed esprimerla al meglio donando la propria abbondanza ritrovata agli altri invece che pretendendo o conquistando l'altrò abbondanza per sé un concetto molto diverso da quello a cui siamo abituati oggi dove le cose sembrano andare addirittura al contrario Questo simbolo era così radicato che perfino nella decadenza del materialismo della Roma antica quel valore era ancora ben presente Un ricco patrizio poteva mostrare la sua opulenza e saggezza in base alla quantità dei mendicanti o persone in difficoltà che si presentavano ogni mattina presso la sua villa e ogni mattina il ricco patrizio usciva da casa e spendeva il suo tempo per dispensare cibo e denaro favori, consigli e ogni altro genere di aiuto ai poveri e ai disperati o alle persone semplicemente bisognose di qualcosa in questo modo il patrizio esprimeva e sentiva dentro di sé la felicità A quell'epoca era un fatto acquisito che per essere felici occorreva essere benefici per gli altri Inoltre attraverso il donare e il condividere il patrizio romano mostrava di essere riconoscente verso la vita per quello che aveva ricevuto in sovrappiù perché era ben cosciente che la strada verso la felicità passa innanzitutto verso la gratitudine Ma quello del patrizio è solo un esempio e come tale non deve trarre un inganno dato che ognuno ha la sua particolare e specifica potenzialità di Felix Ità senza vincoli di disponibilità di ricchezze materiali Se il termine Felix è riferito infatti alla condizione di offrire molto agli altri potremmo riflettere su ciò che abbiamo potenzialmente noi in cassaforte e che non allargiamo al nostro prossimo il nostro tempo le nostre capacità e possibilità il nostro aiuto la nostra esperienza Il concetto rimanda infatti a un circolo virtuoso particolarmente benefico più cose impariamo su noi stessi più acquisiamo dall'esperienza più acquisiamo dall'esperienza più possiamo dare più diamo più riceviamo l'ambita Felix e più siamo felici più possiamo diventare degli esempi anche per gli altri di gioia e benessere aumentando di fatto la possibilità di riuscire a provare sentimenti reali e profondi senza trarre ricorso all'altrui consenso con buona pace dei like potremmo quindi concludere prendendoci un piccolo impegno e provare a farci alcune domande quando non ci sentiamo felici come sto cercando di scoprire e realizzare la mia vera natura cosa sto facendo per donare qualcosa di mio o di me agli altri ho il diritto di chiedere e di aspettarmi che sia qualcosa al di fuori di me a dovermi rendere felice e poi proviamo a offrire ciò che abbiamo e stiamo ad osservare certamente qualcosa cambierà la lettura di oggi termina qui vi ricordiamo che l'intero articolo è presente sul link indicato nella descrizione sempre sul nostro blog è possibile scaricare gratuitamente documenti e articoli di approfondimento o contattarci per rimanere aggiornati sulle nostre pubblicazioni ed eventi iscriviti al blog www.associazioneperank.com e su questo canale per i podcast a presto grazie a tutti